allora carissimi amici mi dovete scrivere al canale di benedict da russ7 parla di auto cibo paesaggi così via dobbiamo arrivare a mille mille anche più di mille è più carissimi vi dovete scrivere al canale di marco zollo ok facciamolo arrivare a mille pure a lui ok poi vi do una bella previsione da giocare al 10 all'otto serale e all'otto eccolo qua 5 18 10 all'otto serale 5 90 10 all'otto serale 5 5 90 ambo napoli palermo tutte ok buona fortuna a tutti